Momenti di concitazione questa mattina in mia 25 luglio, all'altezza della piccola rotonda che conduce in mia battaglia di Benevento, per un furgone blindato che si è fermato al centro della carreggiata a causa di un guasto che ha probabilmente interessato il sistema di alimentazione del mezzo. Nulla di strano se non fosse che l'autoblindo stava trasportando probabilmente centinaia di migliaia di euro destinati agli uffici postali e alle banche della città. Per questo motivo i tre vigilanti hanno fatto scattare l'allarme e chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento hanno quindi raggiunto la zona per prestare supporto ai vigilanti. Dopo aver constatato che i sistemi antirapina funzionavano correttamente, i carabinieri hanno lasciato la zona. Le guardie giurate hanno invece circondato e messo in sicurezza il blindato in attesa dell'arrivo di un mezzo capace di trainare il pesante furgone fuori dalla carreggiata.